Buonasera, Eminenza. Buonasera. Sì. Iguai non vuole giocare a Napoli perché non ci sono dei giocatori importanti. No. I giornali di tutto il mondo hanno appena cominciato a scatenare l'inferno. Chi è San Pipita? Trattasi di manifesto truffatore che asserisce di distinguere tra le pecore la beata Vergine Maria. Con quello che ho risparmiato compreremo uno migliore che Zuniga. E' un tuo cazzo. Ecco tridente. Grazie. 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 Grazie.